Ci siamo, siamo in diretta anche oggi, è il secondo giorno di questa maratona di formazione. Aspettiamo che il messaggio e la notifica arrivi a tutti. Quindi, man mano che ci colleghiamo, ok, piano piano iniziamo tutte ad arrivare. Nel frattempo che vi collegate, chi si sta collegando adesso, se mi fa un cenno su come è l'audio e come è l'immagine. Ciao Gio, ciao Silvia. Bene, prima di ricapitolare un po' quello che abbiamo fatto ieri, aspettiamo un altro po' che si colleghino anche le altre persone. Eravamo circa, non si vede chiaro, allora, vediamo subito. Cerco di illuminare un po' di più, vedete meglio adesso? Adesso, datemi un segno, l'audio ok. Elena, adesso l'immagine come la vedi? L'immagine è un po' sfocata. Vediamo se con le luci riusciamo a gestirla. Adesso, aspettate ragazze che cerco di spostare le luci. Ok. Meglio adesso? Parlo dell'immagine, poi magari cerco di avvicinarla. Ciao a tutte, non focalizza bene. Io al momento lo sto mettendo a fuoco ed è nitida. Cercatemi di far capire come la vedete voi, perché altrimenti è un problema di connessione. In quanti la vedete sfocata? Fatemi un cenno. Perfetto. Al momento, più a fuoco di così, ecco. Meglio? Ok, magari cercherò di avvicinarla di più. Allora, iniziamo ad essere un po'. Prima di andare avanti con la spiegazione di oggi, facciamo un attimo il punto della situazione, di quello che abbiamo detto ieri, e ricapitolando quello che è il percorso che andremo a fare da qui a sette giornate. Ora, quello che è nostra intenzione è accompagnarvi in questi sette giorni, dove praticamente andremo a toccare quelle che sono le basi del nostro mondo. Ieri abbiamo visto un tipo di semipermanente, il classico semipermanente, col sistema a scioglimento per la rimozione, e ogni giorno aggiungiamo uno scalino in più, un pezzetto in più, fino a toccare cose e argomenti un po' importanti. Lo scopo di questa maratona, sia mio che dell'azienda, è quello di dare questa formazione gratuita, in modo totalmente gratuito, affinché poi, alla fine dei sette giorni, chi parteciperà con costanza e chi sarà più attivo e accetterà questa sorta di sfida, anche negli esercizi giornalieri, avrà un premio. Un premio che poi vi svelerò. Allo stesso tempo, dopo una riunione fatta questa mattina, vi comunico che alla fine dei sette giorni io non mi preoccupavo tanto dei sette che andremo a fare, perché ciao Millie, benvenuta. Non mi preoccupavo dei sette che andiamo a fare, perché gli argomenti già li ho. Io mi stavo già preoccupando di non lasciarci dopo i sette giorni. Per cui, chi continuerà e accetta la sfida giornaliera di seguire, fare gli esercizi, di essere attivo, avrà una sorpresa a fine percorso. Dall'altra parte, subito dopo, ho pensato ad una nuova continuità con argomenti totalmente diversi. Quindi, di cose ce ne saranno veramente tante alla faccia della quarantena forzata, perché noi la facciamo passare in un altro modo. E quindi, piano piano, vi svelerò tutti i passaggi. Quello che vi ho messo stamattina è il primo album. Ci sono state delle persone che non hanno avuto ben chiaro come dovevano procedere. Allora, procediamo così. Ogni giorno ci sarà una diretta, sempre alle 17. Ogni giorno creeremo un album. L'esercizio è semplice, molto semplice, è ricreare esclusivamente quello che andiamo a fare in diretta durante il giorno di programmazione. Capisco che non tutte avete gli stessi prodotti o magari non avete la nostra linea. Non importa. Quello che cerchiamo di trasferire è formazione allo stato puro. Per cui, quando ad esempio parlo di primer acido, piuttosto non acido, o base, sigillanti, eccetera, cerco anche di generalizzare i concetti. Ciao sole, benvenuta. Cerco di generalizzare i concetti in modo tale che quello che avete a casa riuscirete a prendere e a fare. Quindi non vi preoccupate se non avete con voi i nostri prodotti in questo momento. Devo assolutamente riprendere le mie cosine per lavorare. Sì, Giamaica, tu non ce l'hai con te a casa? Purtroppo questa è stata una situazione d'emergenza. Anche io ho fatto in tempo in tempo a sbaraccare alcune cose dal negozio e a portarle in casa. Credo che sia un problema un po' di tutte, però cerchiamo di fare quello che possiamo con quello che abbiamo. Ora, vi dicevo, quindi ogni giorno c'è una diretta. Ogni giorno verrà creato l'album dell'argomento del giorno dove io faccio un riassunto del passo passo di quello che abbiamo fatto e le immagini degli esercizi vanno caricate nell'album taggando me personalmente in modo che posso procedere alle correzioni. Alcune di voi hanno inserito degli esercizi fatti poco fa, ma siccome ero impegnata in un'altra formazione li controllo più tardi e vi do le risposte. Quindi ogni giorno per sette giorni ci saranno sette argomenti diversi. Ora capisco che tante persone fanno solo gel quindi ripartire dal semi permanente potrebbe essere noioso ma andiamo molto in velocità tra virgolette per far capire la differenza e per far capire come si evolvono gli step e le tipologie di prodotti. Poi quando ci inizieremo ad entrare nella ricostruzione e tutto il mondo della ricostruzione lì ne vedremo insieme delle belle. Quindi partiamo con quella di oggi e quello che andremo a vedere oggi è un'altra tipologia di semi permanente. Ok, adesso qualcosa mi invento se no mi arrestano no, non ti faré arrestare per favore poi magari mi dici quello che hai e cerchiamo di organizzarci. Allora dicevamo questo semi permanente è diverso, totalmente diverso da quello che abbiamo visto ieri. Prima differenza se riuscite a prendere appunti almeno vi restano e se più in là magari decidete di abbracciare la nostra linea avete praticamente un corso già fatto. Allora il semi permanente che andremo a guardare oggi è come se fosse un piccolo scalino in più è un'evoluzione piccolissima di quello che abbiamo visto ieri ovvero il semi permanente di ieri era un semi permanente con la rimozione a scioglimento quindi prima caratteristica questo semi permanente che vediamo oggi che si chiama Nile Wax Clear è un semi permanente con la rimozione a lima ovvero non va sciolto nel liquido questa è la prima fondamentale differenza quello di ieri è un semi permanente che dura 15 giorni come abbiamo detto ieri non è che alla fine del quindicesimo giorno inizia a rompersi o a deteriorarsi i 15 giorni sono dati per esclusivamente rispettare la lamina del letto ungueale naturale quello di oggi è un semi permanente con la durata massima sempre per lo stesso motivo di 21 giorni quindi che cosa succede? viene da sé per tante persone che fanno anche ricostruzione che il semi permanente con la durata di 21 giorni è un semi che si avvicina un po' di più al mondo della ricostruzione e poi vedremo perché altra caratteristica altra differenza che quello di ieri non aveva la necessità di essere affiancato da un primer vero e proprio infatti veniva utilizzato un deidratante subito dopo la preparazione della lamina mentre per quello di oggi abbiamo la necessità di utilizzare un vero e proprio preparatore ovvero un promotore di adesione chiamato così nel generico quasi da tutti i brand in questo caso nel nostro parliamo di super bond io faccio una piccola dry manicure senza danneggiare la lamina ora che andremo a spiegare l'applicazione vedremo tutti i passaggi e parleremo anche di questo quindi procediamo ciao Katia tanto tempo che non ci sentiamo allora andiamo avanti e quindi come prima applicazione sull'unghia naturale come andremo a procedere ora mentre lo applicherò vi dirò le differenze ricordate che quello di ieri non andava tolto lo strato di inibizione dopo la polimerizzazione oggi vediamo un passaggio diverso quindi ricordo magari per chi non c'era ieri o per chi c'era io ho fatto una piccola struttura perché sto cercando di ripristinare i valli laterali essendo che quando poi non ho le ricostruzione vado di oligofagia pura quindi andiamo a preparare la lamina e come abbiamo visto ieri stessa preparazione lima se è naturale lima 240 240 nella preparazione della lamina che cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno comunque di per chi è abituato a farlo di trattare la zona cuticolare e andiamo a vedere questa zona qui che va da vallo a vallo la zona cuticolare poi ne parleremo più avanti nello specifico quando andremo a fare la manicure non invasiva la zona cuticolare non è intesa come questa o questa e quella zona che va dal vallo al vallo opposto questa zona qui è tutta zona cuticolare ora altra cosa come abbiamo detto ieri la zona cuticolare laddove c'è l'ispessimento del giro cutico e poi piano piano entriamo un po' più nel tecnico che cosa fa di natura tende a riabbassarsi sulla lamina riabbassandosi e spingendo sulla lamina tende a poter far sollevare il prodotto per cui abbiamo bisogno di trattarlo in modo delicato e soprattutto non invasivo quindi fin qui ci siamo tutte quante abbiamo ripassato un po' quello di ieri quello che andremo a fare è tutto chiaro fatemi un cenno così io so se posso andare avanti o meno se c'è qualche dubbio qualche domanda non vi preoccupate laddove riesco a vedere io e non mi sfugge rispondo io altrimenti ci sono le ragazze del team ok andiamo avanti bene abbiamo detto che in questo caso iniziamo ad utilizzare il vero e proprio primer il primer che andiamo ad utilizzare è il super bond il super bond no Ilaria non è un primer acido perché come dicevamo sul semi permanente con il semi permanente non va mai applicato il primer acido il super bond è un primer non acido non acido e al suo stesso tempo come il preparatore ed idratante di ieri evapora all'aria ora vi ricordate che ieri nell'evaporare il prodotto tornava l'unghia opaca perché quando andiamo a a togliere a prepararla opacizziamo l'unghia il idratante la fa tornare opaca il promotore di adesione super bond all'occhio adesso che lo vado ad applicare lo vedrete resta uno strato lucido ed è corretto che sia così che cosa fa questo tipo di preparatore questo preparatore non fa altro che ha la funzione di biadesivo tra la parte della lamina naturale e tutto quello che si andrà ad applicare successivamente quindi è come se sigillasse sotto la lamina naturale sopra è come se agevolasse l'adesione di qualsiasi tipo di prodotto che andiamo a mettere dopo procedo nell'applicazione una domanda frequente che accade in aula e che ci chiedono sia me che magari le ragazze e se quando applichiamo i preparatori succede qualcosa c'è qualche problema se li mandiamo in lampada ora nonostante a prescindere dall'insegnamento penso un po' come tutte quante abbiamo la nostra routine lavorativa quotidiana e credo che il problema che abbiamo un po' tutte principalmente chi sta a contatto stretto con le clienti è farle stare in modo composto senza toccare niente durante il servizio io personalmente sì senza nessun tipo di problema le faccio mettere in lampada almeno sono sicura che stanno ferme e non mi creano disagi durante l'applicazione quindi toccando borse capelli e tutto il resto credo che succeda anche a voi quindi abbiamo messo il nostro preparatore se voi vedete ditemi se è chiara l'immagine vedete che resta lucida vedete bene ciao stella benvenuta ok questo tipo di preparatore quindi evapora l'aria e risulta totalmente lucida l'unghia dove andiamo ad applicarlo una volta fatto questo passaggio come abbiamo visto ieri il semi permanente la tipologia di semi permanente di ieri veniva caratterizzata per l'essere di due prodotti che nel frattempo io prendo così vediamo ok ieri utilizzavamo due prodotti una base e un top ok è chiara l'immagine ok oggi per fare la stessa funzione utilizziamo un solo prodotto non so se adesso va meglio con l'immagine riuscite a vedere adesso perché c'è un ritorno che ragazzi non riuscite a vedere ok andiamo avanti perché potrebbe essere un errore di connessione fatemi capire no cosa perché leggo no però non riesco a capire cosa provo a spostare le luci si blocca allora ragazze se si dovesse bloccare la connessione uscite dalla diretta e rientrate di nuovo si blocca anche il video è la linea che si interrompe purtroppo è un problema di linea uscite e rientrate dalla diretta allora facciamo così mi sentite almeno questo così riusciamo a capire ora si vede meglio allora quando succede questo aspettate qualche secondo entrate riuscite dalla diretta in modo che si risincronizza tutta esatto dovrete rientrare e riuscire purtroppo c'è un ritorno perché le linee sono a quest'ora con tutti i collegamenti che ci sono possono creare problemi ok ok meglio non si vede più ragazze dovete rientrare e uscire perché è un problema di connessione perché più di questo purtroppo non riusciamo allora dicevamo andiamo avanti con l'applicazione del nostro Nile Walks Clear quindi con lo stesso prodotto andiamo a fare sia la base che il top se si blocca il video uscite rientrate dalla diretta le ragazze del team date questo messaggio a chi ha problemi di connessione ora andiamo con l'applicazione poi vi faccio vedere la densità come è diversa rispetto a quello di ieri intanto non abbiamo fretta cerchiamo di magari andare più lentamente così aspettiamo che tutte guardino non sto guardando un attimino ok andiamo in polimerizzazione per 60 secondi led come dicevamo ieri 120 UV in caso di altra lampada prima di questo passaggio possiamo usare il gel base liquido grazie a quello eccezionali in che senso come ti dicevo altre volte col passaggio lì per dare un rinforzo maggiore però le basi le tocchiamo domani in modo da non far confusione cerchiamo di trasferire il protocollo di ogni prodotto giorno per giorno altrimenti magari le altre persone non capiscono per chi non ha questo prodotto fa la stessa modalità di ieri sì se hai soltanto l'analisi in permanente a scioglimento sì quale differenza c'è rispetto a quello di ieri quello di ieri che abbiamo visto abbiamo visto che la base una volta applicata e polimerizzata non andava tolto lo strato di inibizione qui oggi andiamo a toglierlo quindi con il nostro cleanser mi raccomando un cleanser delicato e poi quando andremo a toccare anche altri argomenti vi spiegherò altre cose quindi andiamo a togliere lo strato di inibizione su tutta vedete come resta lucido ora la densità di questo prodotto è molto più viscoso molto più denso rispetto alla base che abbiamo visto ieri vedete questa è quella di oggi guardate come si trattiene quindi è molto più denso questa è la base di ieri guardate come è più liquida perché questa differenza anche nella viscosità anche nella densità perché questo è un semi permanente che si deve avvicinare e la sua funzione è quella di avvicinarsi un po' ad un sistema di ricostruzione quindi a proteggere di più la lamina rispetto al classico semi permanente ora proprio per questo motivo essendo più viscoso e chimicamente predisposto ad una durata maggiore è proprio per questo che la sua rimozione non può essere effettuata con il liquido di scioglimento ma va rimosso totalmente con la lima o con la punta apposita per la fresa quindi andiamo a togliere il nostro strato di inibizione e fin qui credo sia tutto chiaro i passaggi sono chiari li avete capiti le differenze anche c'è qualche domanda prima che andiamo avanti ora con oggi praticamente andiamo a chiudere quelli che sono i semipermamenti classici che un po' tutti conosciamo e abbiamo prima sia per un brand che per un altro abbiamo provato da domani iniziamo a parlare di cose un po' più curiose come il post che vi ho messo oggi con il poker revolution iniziamo sempre di più ad avvicinarsi al sistema di ricostruzione sul poker revolution che vedremo domani ci sarà tanto tanto da scoprire tanto tanto da vedere soprattutto per chi non l'ha mai utilizzato perché è un prodotto veramente rivoluzionario e aiuta tantissimo anche in un concetto di refill in salone poi domani vi dirò meglio bene andiamo avanti facciamo le nostre classiche due passate di colore io ho una grande difficoltà a non svelarvi quello che c'è in programma per la fine di queste sette giornate perché chi mi conosce sa che io non mi riesco a trattenere con le ragazze però devo farlo perché se no dalla regia mi uccidono allora io per oggi ho scelto un bel colore vivace una piccola anticipazione della nostra estate che spero di vedere presto anche qui da noi sembra più inverno che estate natale praticamente non so da voi acqua piove prima nevicato poi per tipo da due giorni che non smette di piovere scusate ma si è caduta la linea vorrei sapere se prima di mettere il colore si deve sgrassare il cleanser si ramona devi sgrassare il cleanser e quindi vi dicevo siccome in barba al tempo di oggi di queste giornate ho voluto prendere un bel fucsia e tra l'altro ci sto preparando un nuovo lavoro di nell'arte vabbè una piccola cosa ve lo posso ve la posso svilare in questo percorso soprattutto post delle sette giornate vedremo un po' di cose di nell'arte finalmente io amo la struttura gareggio con le strutture tutto quello che volete ma il mio primo amore sono le nell'arte quindi andremo a toccare anche quello ovviamente non è un premio riservato a tutte in che senso è giusto che ognuno ci mette il suo io nel mio e voi nel vostro ok questo colore è stupendo sì Federica non vedo l'ora che arrivi l'estate per presentare tutta la nuova collezione davvero vado in lampada in Sicilia piove da una settimana giusi non mi dire niente perché io avevo programmato di essere in Sicilia con un evento ad aprile proprio la settimana dopo mi sembra il 25 26 avevamo un evento grandissimo a Catania e purtroppo alla luce di tutto questo sicuramente verrà rimandato sono stata a Ragusa per quattro mesi lo scorso anno amore a prima vista amore a prima vista una domanda ancora Ramona ma prima del bond no Ramona esatto vai direttamente con il super bond e il numero allora Maria Grazia questo è il numero 142 ovviamente un piccolo trucchetto quando ci sono questi colori molto accesi non riesco a capire se è un problema scusate che sposto un attimo la luce quando ci sono questi colori molto accesi adesso togliamo il discorso un attimo facciamo una parentesi di semi permanente se mettete sotto i colori accesi come sotto i colori pastello una struttura cover piuttosto che un gel milky il colore risalta di più ecco Mariana è da provincia di Ragusa penso in quattro mesi penso di aver preso su non so quanti chili ma fiera di averli presi quindi si lo hanno già annullato l'illina si purtroppo si questo colore ce l'ho ed è bellissimo si anche io lo amo particolarmente il fucsia lo metto ovunque quindi dicevamo abbiamo preparato la lamina applicato il super bond abbiamo tolto lo strato di inibizione iniziamo anche a sentire questi termini nuovi è sbagliato mettere nel prep prima non è un errore perché è un deidratante sapete qual è la funzione reale oltre a essere deidratante il prodotto la funzione di quel prodotto lì è un ausilio maggiore soprattutto per le persone che hanno ancora poca dimestichezza con la lima e con la preparazione della lamina quindi che cosa fa quello arriva a deidratare tutte quelle zone che noi non siamo riuscite ad opacizzare quindi è quella un po' la funzione nell'applicarlo prima del super bond non è assolutamente un errore però laddove una persona non ce l'ha non è neanche grazie amiche che hai detto i colori forti allora usciamo fuori un po' dal discorso semi quando hai una struttura o se usi il poker evolution che è fatto anche di colorazioni quindi di nude rosa eccetera se vuoi usare un colore così forte e fai una base colorata sotto quindi nude o rosa il colore si ravviva di più e si esalta di più soprattutto quindi se sai a priori che la cliente ha scelto quel tipo di colorazione tanto accesa fluo o pastello aiutati e fatti furba usando una base colorata quindi abbiamo applicato il nostro colore andiamo sempre a fare le nostre due passate anche se questo è veramente tanto tanto pigmentato cerchiamo di rispettare sempre gli step perché anche se a livello impercettibile potrebbero crearsi delle discromie tra un passaggio e l'altro allora Ramona comunicazioni ufficiali ufficiali ancora non ne abbiamo però dobbiamo capire che cosa succederà dal tre in poi io forse per me so che è una cosa che dobbiamo fare tutti restare a casa ma mi mancano veramente tanto queste cose torniamo in lampada sì avevamo organizzato questo grande evento sia in campagna che in sicilia è veramente molto importante e particolare però nulla è annullato ma appena si torna alla normalità di spostarlo sicuramente si spera d'estate così è un giorno in più per la vacanza quindi abbiamo fatto le nostre due passate di colore da quello che so io stiamo impostando un po' tutti gli eventi sì e li rifisseremo a data da destinarsi ma sono persi quello è poco ma sicuro facciamo le nostre due passate di colore e allora che cosa vuol dire discromie allora Elena discromie è praticamente quando si creano delle zone di contrasto chiaro scuro su un colore cioè io faccio una passata di colore magari non sono stata abbastanza brava pratica o il tipo di colore non mi ha agevolato perché è molto liquido quindi si possono creare delle zone dove c'è più concentrazione di colore che cosa succede con la semipersata io vado ad omogeneizzare quello che non sono riuscita a fare bene con la prima passata fammi un cenno se hai capito Maria Grazia chiede in questa tipologia di semi permanente possiamo utilizzare anche il gel color allora devo risponderti da insegnante se ti rispondi se ti dovessi rispondere da insegnante ti dico no se ti dovessi rispondere da operatrice nel center titolare eccetera che lavora tutti i giorni ti dico è come se ci facessimo una confidenza tu per tu anche se ne siamo tante si lo puoi utilizzare perché la rimozione viene fatta comunque con la lima non va a sciogliersi l'unica cosa che vuoi fare attenzione nella stesura è fare una sola passata Rossella dice anche quello di Napoli è stato rimandato doveva esserci purtroppo si ragazzi purtroppo si ma è solo rimandato allora torniamo a noi ultimo passaggio andiamo a sigillare con il Nile Wax Clear quindi lo stesso prodotto che abbiamo utilizzato per la base lo andiamo a riutilizzare per la sigillatura ora sono stati un po' facili da domani si inizia un po' a fare un po' più difficile è tutto chiaro quello che ci siamo detti oggi i passaggi quindi ricapitoliamo se ci sono intanto problemi di linea quello che vi consiglio è se si blocca eccetera uscite della diretta e rientrate si riavvia automaticamente quando ci sono problemi tante volte di focalizzazione eccetera purtroppo è un problema di connessione e con il tempo così e l'orario in cui tante sono connesse quindi queste sono le linee guida dopodiché i passaggi che abbiamo visto oggi preparazione allo stesso modo applicazione del promotore di adesione che figata più facile di così sono contenta quindi applicazione del promotore di adesione super bond una passata di nel walks clear ricordatevi che questo prodotto va tolto del suo strato di inibizione è un prodotto con dispersione quindi mi raccomando e anche quando lo utilizziamo iniziamo a parlare soprattutto intende magari sviluppare discorsi futuri piano piano camminare verso una strada dell'insegnamento cerchiamo di iniziare a masticare la terminologia corretta quindi togliamo lo strato di inibizione sulla base andiamo a fare due passate di colore sempre la sigillatura viene rifatta allo stesso modo con lo stesso prodotto polimerizziamo sempre con il aspettate che sto vedendo una domanda si può chiudere che sei impermanente con il top senza dispersione della linea gel milly in questo caso se abbiamo messo ieri no assolutamente no quello di ieri a scioglimento non ti andrebbe a sciogliere con quello di oggi sì sono felicissima di questa diretta perché dopo tre mesi c'è sempre qualche domanda sì Ramona ce ne sono sempre tante io l'ho riscontrato ogni volta che siamo in aula ogni volta che ci incontriamo con ragazze che mi seguono da più anni ogni volta esce qualcosa di nuovo quindi è sempre guadagnato per noi e per cercare di lavorare al meglio quindi ho applicato la sigillatura con lo stesso prodotto che a dispersione di nuovo procede a togliere lo strato di inibizione col cleanser vi svelo un altro segreto vedete quanto è lucido come il top di ieri il nail il nail wax clear oggi domani ne vedremo un altro ogni tipo di procedura ha un grado di lucentezza questo sicuramente ha un grado maggiore di ieri guardate il riflesso per questo è importante quando utilizzate il cleanser la scelta di un cleanser non troppo invasivo aggressiva per cui il prodotto potrebbe rovinarsi il graffio non lo vedete subito il graffio lo vedete dopo qualche giorno sapete perché vediamo chi sa il perché tranne le ragazze a cui l'ho trasmesso in aula ovviamente chissà perché i lucidi o i top di suggeratura finali dopo qualche giorno iniziano a presentare dei problemi di lucita la prima cosa che fanno le clienti dopo una settimana che cosa perlomeno adesso no però all'inizio la mia è la prima cosa che mi torna opaca allora ve lo dico io praticamente dovete sapere una cosa allora aspettate che vi leggo qualche domanda grazie da quando uso i vostri prodotti il mio lavoro è facilitato sono favolosi grazie giusi e vedrai che dopo queste sette giornate li svilupperai ancora al meglio allora se stai facendo un sistema di semi permanente no non è corretto io non riesco a seguirti se la diretta la sarà salvata la seguirò dopo sì Rossella le dirette che facciamo vengono lasciate quindi non hai problemi a rivederla gli unici step che non verranno salvati è quelli che ci saranno post diretta post sette giornate perché da lì ci sarà sicuramente una selezione io luxury l'ho usato e mi spaccava e si toglieva subito che cosa hai usato che ti dava problemi il lucido ad effetto retro allora forse usano troppo no ragazze vi spiego il perché il problema della lucidità questa è la domanda più frequente che viene fatta e che mi viene fatta soprattutto sull'utilizzo dei prodotti allora ve lo prendo così sappiamo del soggetto di cui parliamo che vi avrei presentato domani spendiamo due parole in merito perché mi state facendo anche voi delle domande allora prima cosa allora organizzi corsi su Roma e online sì fino a prima di tutto il disastro eravamo presenti anche fisicamente a Roma per il momento ci stiamo organizzando solo sull'online allora parlavamo di questo prodotto il gloss elastic ora su questo prodotto facciamo un passo indietro vi svelo un po' una parte del discorso che eravamo dovuto fare domani allora il problema della lucentezza prima cosa cercate un attimino di seguire il discorso perché è importantissimo per capire quando andiamo a polimerizzare un prodotto il 90% della polimerizzazione avviene in lampada nessuna lampada di nessuna marchio di brand e nessun prodotto di qualsiasi brand va a polimerizzare a 100% il prodotto stesso quindi il 90% della polimerizzazione avviene in lampada il 10% avviene nelle 24 ore successive con la luce solare ok è chiaro quindi tutto quello che si fa a contatto con le unghie in quelle 24 ore è di fondamentale importanza ora quando vi parlo del cleanser non troppo aggressivo non ve lo dico perché c'è una forzatura dietro di vendita assolutamente no ve lo dico e le ragazze che seguono i miei corsi lo sanno perché lo ripeto fino allo sfinimento perché più è aggressivo essendo il prodotto che ha il 90% di polimerizzazione se io utilizzo un cleanser aggressivo vado già a creare problemi sulla lamina sul prodotto che ho applicato quindi prima cosa questo prodotto lo ripeterò sempre fino allo sfinimento ma lo faccio perché è il mio prodotto preferito quindi ci tengo in particolar modo e vi dico anche una cosa quando io ho vinto le mie prime gare fino alle ultime gare vinte a gennaio nelle gare ti danno un requisito il requisito della lucentezza ok questo prodotto perché io vado in gara con il mio brand che è la Luxury Nails questo prodotto ha vinto 10 punti su 10 per la lucentezza bisogna saperlo usare quindi prima cosa quando si stende e domani vedrete l'applicazione corretta va stesa in un certo modo seconda cosa la polimerizzazione è fondamentale in una lampada con la potenza corretta quindi 60 secondi lampada 48 watt come abbiamo detto ieri terza caratteristica quando lo togliamo dalla polimerizzazione ma finito il suo giro di polimerizzazione il prodotto va raffreddato non va stressato né con oli e né assolutamente con lo strofinare del pad sopra quindi sono tutte piccole cose alle quali voi dovete prestare attenzione perché ve lo garantisco e vi faccio vedere domani delle tip che ho realizzato che hanno ormai forse due mesi tre mesi quindi parliamo anche di plastica e continua il suo grado di lucentezza il problema più grande è che si riscontra io come docente e soprattutto anche quando vado a fare operatività nel salone è l'uso corretto dei prodotti la maggior parte dei problemi sono inerenti a quello ragazze la prima cosa è quella assolutamente se sappiamo come utilizzare in modo corretto ogni prodotto e sappiamo quali sono le pecche o i punti di forza di quel prodotto noi abbiamo vinto è per questo che noi ci stiamo dedicando a queste sette giornate dove veramente c'è stata una grande opportunità in primis da parte dell'azienda e poi da parte mia a livello totalmente gratuito per poi selezionare per step successivi chi ha deciso di apprezzare il valore di questo progetto quindi la cosa che vi raccomando seguire le dirette in modo che io riesco a sviscerare con voi tutti i problemi che come è successo già oggi ci sono state più domande di ieri piano piano vedrete che cresceranno sempre di più e sveleremo sempre più dubbi il fine è proprio quello perché usciremo da tutto questo casino dove saremo pronte combattive e risolviamo tutto e riusciamo a crescere quindi questa è la caratteristica fondamentale di questo prodotto però domani sicuramente ne parliamo ancora di più ne parliamo ancora meglio preparatevi 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 perché nella diretta dicevano dalla regia ecco per chi seguirà e parteciperà ci sarà un premio straordinario esatto assolutamente vero che io farò tanta difficoltà a trattenermi però farò la brava questa volta su Civitavecchia parli di corsi Milena poi vi daremo tutte le info per le nuove programmazioni soprattutto per quelle online ci siamo noi copriamo quasi tutto non quasi tutto il territorio italiano e poi vi sveleremo anche tutto il resto durante le giornate Millie dice per me tutto questo è una grossa opportunità sì Millie noi abbiamo fatto consapevoli di voler fare una cosa totalmente diversa rispetto a quella che fanno altri brand ma giustamente perché ognuno decide di percorrere una propria strada a noi piace sempre un po' differenziarci da tutti quanti sette giorni passati così significa uscire fuori con un bagaglio di un corso totalmente gratuito che chi sta seguendo in linea e ci sono tante ragazze che sono mie ragazze e sono state mie ragazze in aula e fuori lo sanno e hanno pagato vi viene data una grossa opportunità quindi vi invito a non sprecarla ecco bene quindi abbiamo ricapitolato tutti i passaggi le differenze del prodotto di ieri rispetto al prodotto di oggi le abbiamo viste ci siamo anticipati con il colore un po' sull'estivo ve lo rimetto così e vi riprendo anche il detratante di ieri così chiudiamo questo capitolo e andiamo avanti domani prima che ci salutiamo vi ricordo i passaggi che dobbiamo fare quindi l'album per chi non ha gli stessi prodotti non vi preoccupate fate gli esercizi prendete appunti e cercate di giorno per giorno assimilare quello che ci diciamo quindi creiamo l'album fate l'esercizio l'album lo trovate sotto praticamente l'immagine di copertina c'è la barra in questa barra ci sono tutte le sezioni nella sezione album ogni album sarà dedicato ad una diretta inserite l'esercizio all'interno dell'album taggatemi e io provvederò alla correzione quindi se è tutto chiaro mi sono collegata oggi per la prima volta potete spiegarmi questo percorso dei sette giorni sì Milena ti rispiego quello che abbiamo iniziato ieri innanzitutto la diretta di ieri se tu scopi di ieri di ieri